ciao a tutti oggi preparerò una torta di mele con un crumble alle mandorle semplice ma deliziosa prepariamola insieme cominciamo preparando il crumble che metteremo poi in frigo o in freezer fino al momento dell'uso nella ciotola della planetaria setacciamo la farina con il sale aggiungiamo la polvere di mandorle zucchero di canna e infine il burro leggermente ammorbidito azioniamo con la foglia dobbiamo ottenere un composto simile alla sabbia bagnata ora distribuiremo il composto su una teglia con carta forno o tappetino di silicone che conserveremo in frigo o in freezer fino al momento dell'utilizzo ecco il crumble pronto io vi consiglio di realizzarlo il giorno prima o almeno sei otto ore prima ora prepariamo le mele una casseruola mettiamo le mele a cubetti un pochino di burro qui è quanto basta due stecche di cannella io ne metto quattro perché sono piccoline un pochino di vaniglia in polvere cospargiamo con zucchero semolato e facciamo cuocere per qualche minuto a fuoco vivo in modo che cuociano ma devono rimanere morbide compatte cotte ma compatte ora che le mele sono state cotte un pochino le mettiamo in una ciotola a raffreddare nella ciotola della planetaria con la frusta versiamo le uova intere e iniziamo a schiumare aggiungeremo poi gradualmente lo zucchero semolato e iniziamo a schiumaremo poi montiamo fino ad ottenere un composto spumoso e areato ora versiamo un terzo di questo composto in una ciotola al quale aggiungiamo l'olio neutro il burro fuso e infine il calvados e amalgamiamo ora aggiungiamo alla massa principale la farina con il lievito io le ho già presetacciate facciamolo un paio di volte aggiungiamo il terzo al quale abbiamo aggiunto i grassi e infine aggiungeremo le mele molto delicatamente le miele preparate in precedenza io ho rimosso le stecche di cannella ho imborrato e infarinato i bordi di una tortiera a cerniera da 24 sul fondo ho messo un foglio di carta forno in modo che faciliti poi la rimozione della torta versiamo il composto all'interno tale di cottura è 40-45 minuti a 160 gradi ventilato dopo 10 minuti aggiungeremo il crumble sulla superficie per terminare poi la cottura ho precotto la torta 10 minuti ora disponiamo sopra il crumble il crumble che avanza potete conservarlo benissimo in congelatore per un'altra preparazione ora di nuovo in forno per terminare la cottura ecco la nostra torta di mele crumble cotta io ho prolungato la cottura di 20 minuti quindi totale 65 minuti perché verificando con uno stecchino era ancora molle all'interno quindi regolatevi voi in base al vostro forno come gestire i tempi ora la facciamo raffreddare e poi la sformeremo ecco la torta raffreddata spolverizzata con zucchero bucaneve spero che la ricetta vi sia piaciuta se vi è piaciuta mettete un like iscrivetevi al nostro canale youtube e attivate la campanella per non perdere nessuna notifica seguiteci sui social facebook e instagram grazie ciao 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 ciao